Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di YouTube in 60 secondi. I fancazzisti esordiscono con un nuovo format chiamato Product Reap. In questo episodio zero Simone verrà lasciato in un cubo misterioso manicomio abbandonato. Niccolò Balini in arte Human Safari raggiunge i 100.000 iscritti, un agudio da parte di tutto lo staff della canzetta di YouTube per questo incredibile traguardo. Brava Niccolò. Mila Accendini gira interamente la Sicilia in bicicletta, realizzando video brevi e lunghi e diretta streaming su Periscope. Marco Tondi, Andrea Secco e Maccialatte presentano in una live Giappolife, un servizio interamente dedicato a chiunque voglia avvicinarsi al mondo del Giappone, sia per studiare o anche in ambito lavorativo. Theo Yosufian, membro dello staff di Cotto e Frullato, realizzera dopo i Cinefac tre importantissimi nuovi format che riguarderanno le sue principali passioni come il cinema, la musica e gli agili. Ad aver vinto il nostro consueto sondagione settimanale, ci hanno pensato Leo e Cleo con un incredibile video su Ghosting Goblins. Anche per questa settimana il TG giunge al termine. Il vostro Gold & Boy vi saluta. Ciao!